bella ragazzi io sono thomas e allora in questi giorni qua farò dei video insieme al mio amico filippo filippo è anche lui un canale si chiama filippo locatelli e ve lo consiglio perché fa ridere bravo e insieme faremo dei gameplay di tutto e poi non lo so faremo clever bot però non si sa se riusciamo perché per ora non siamo ancora così avanzate abbiamo appena adesso youtube metteremo e poi ve lo dico non ve lo dico da adesso fatemi vedere tipo delle sotto qui sotto nei commenti qua 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 qui 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 sotto nei commenti scrivetemi tipo non lo so mangiare un limone eccetera eccetera e cioè non so cosa fare faccio vedere i miei strumenti c'è la chitarra elettrica però non è cioè c'è ma non si dice ah sì c'è non è che non è attaccata quindi non si sente forte faccio cagare e poi qua c'è la mia batteria adoro c'è dai io faccio sentire un po' scusatemi mi stia la fermata la telecamera ecco ora io faccio sentire un pochino dai sono le bacchette ecco dai c'è le bocchino tristi se no c'è un po' di triste c'è felice cazzo ma sta telecamera oddio mino si e poi scusatemi ma è una telecamera che fa schifo c'è il mio cellulare guardate così se lo vedete io non credo perché flash vai c'è che io faccio vedere la mia casa dai non mi sono ancora non ho ancora presentato va bene non si vede niente anticamera vabbè siamo in pulizia natalizie invece che vabbè faccio faccio pagare poi c'è il preseppio il mio dato balù non altri 4 ma non so che si sono poi c'è l'albero morales di mia mamma mia madre fa la pittrice e mi sembra che anche lei è un canale però non non ha messo video e si chiama monica rossi poi c'è il mio tartarughe saluta gina dai e c'è i miei miei altri tre gatti che ronny balù shakira ho i miei libri di scuola fantasticamente fantastici bruttissimi della scuola dai per oggi vi saluto e questo qui è stato il mio video e iscrivetevi commentate mettete mi piace e ci vediamo nel prossimo video bella